E' l'unico siciliano tra i finalisti rimasti in gara. Parliamo di Giovanni Lacorte, il giovane di Caccamo, allievo dell'Accademia dello Spettacolo Palladium di Favara, diretta da Liaminio. Giovanni stasera si riconferma protagonista del programma musicale di Rai 1, di Lascio una canzone, sezione Big. Durante le sue performance ha dimostrato di avere non solo una voce stupenda, ma anche una forte presenza scenica e una passione unica per il canto. Ringrazio la mia famiglia, la mia insegnante di canto Liaminio e tutti coloro che continuamente mi sostengono in questa grande avventura, ci dice Giovanni. Ricordiamo che la sezione Big del programma televisivo è una gara d'eliminazione con l'obiettivo di conquistare la produzione e pubblicazione di un CD, con un contratto con una delle più importanti case discografiche nazionali. Grazie.